Menfi, quello che vedete adesso, non ha una storia molto lunga. Molti edifici sono stati ricostruiti dopo il terremoto del 68, ma anche se i palazzi non fanno vivere più i tempi passati, la storia c'è sempre stata. Le sue origini sono abbastanza antiche e si aggirano attorno al 1638, nel passato di tempo. Dopo però il terremoto del 68 hanno dovuto costruire la maggior parte degli edifici o comunque risistemarli. Ed ecco Menfi, un paesino circondato dal mare ed ha tantissime campagne. Ma nel centro storico ci sono i monumenti più importanti del paese, il Palazzo Pignatelli che sicuro merita una visita, anche dal punto di vista archeologico. Poi non può mancare il museo, ma l'acologico farà di certo appassionare i più piccoli. Ci sono 5.000 esemplari di conchiglie. Inoltre non può mancare, per l'adilizia dei vostri piccoli, la villa comunale. È molto bella per poter far giocare i vostri piccoli. Ma il vero punto di forza di Menfi sono le campagne e il mare. Oltre ai prodotti locali che sono carciofi, l'agricoltura bio, il grano antico, anche se è più vicino a Castelvetrano, l'olio e le vigne.